19 aprile Cristo è ogni cosa in tutti Colossesi 3 11 quale posto dai a Gesù? Cristo è tutto per noi se gli diamo la possibilità di esserlo desidero enfatizzare la parola tutto per alcuni egli è una radice che viene fuori da un terreno arido senza forma né bellezza da farcelo desiderare Isaia 53 2 quindi non è nulla per loro poiché essi non lo accettano e non lo desiderano alcuni cosiddetti cristiani hanno un salvatore molto piccolo perché non sono disposti ad accoglierlo pienamente e noi gli danno la possibilità di fare grandi cose per loro altri invece hanno un grande e potente salvatore perché lo fanno essere potente e vivente nei loro cuori questi ultimi realizzano la gloria di Dio nella loro vita e vedono con chiarezza l'opera di Cristo compiuta per la loro salvezza e ne godono i benefici che essa porta egli è colui che possiede ogni potenza nell'universo la maestà divina e appartiene per mezzo di lui tutte le cose sono state create e per mezzo di lui sussistono grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti